Ciao bilancia, andiamo a vedere con i miei splendidi tarocchi cosa hanno da dirti. Una stesa, come dire, in generale, no? Si direbbe. Quindi non vado a chiedere tempi, quindi non vuole essere un oroscopo, ma questo video avrà validità da quando tu lo vedrai, anche fra vent'anni. Ok? Quindi andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale, per la bilancia, cos'è che vogliono farti arrivare le mie carte. Quindi per chi il video, la previsione, diciamo, si può esaudire prima, per chi più tardi, ti venderà ovviamente anche da quando vedrai questo video, va bene? Non faccio domande, quindi le lascio libere, vediamo di che cosa ci andranno a parlare. Dunque, segno zodiacale della bilancia, un messaggio per la bilancia. Vediamo, segno zodiacale bilancia, cos'è che devono sapere? Segno zodiacale bilancia. Ok. Il taglio, re di spade, cavallo di coppe. Andiamo a vedere cosa vogliono dire, cos'altro. La morte. Uh, vabbè, queste sono chiare. Eccola là. Allora, allora, bilancia qui. Aspetta, chiediamo. Vabbè, allora intanto guardiamo qua. Allora, qui sicuramente c'è in arrivo, senz'altro, una comunicazione. Io qui vedo l'autorità. L'autorità. Autorità che si può tradurre anche con un avvocato, un notaio, un ufficio che ti devo di l'Inps, il comune, la regione. Insomma, capito? Un ente, diciamo, va bene? Che ci comunica un qualche cosa. Allora, qui vedo sicuramente, io devo smettere di dire sicuramente, mi fido troppo io delle carte. Comunque, devo parlare sempre, insomma, comunque, diciamo che qui, da queste carte, fanno vedere la comunicazione che arriva, un qualcosa che, o che tu vinci proprio nel vero senso, ma io qui vedo un'eredità, cioè qui sono chiarissime le carte. Quindi, un'eredità o comunque un qualcosa che avresti dovuto avere e però ancora arteri o in guerra o comunque in attesa di una conferma di un qualche tipo. Qui le carte fanno vedere questo, nel senso che un qualcosa che ti arriva in eredità, ok? Un immobile, un'attività, un diritto, capito? Un beneficio che ti viene riconosciuto. Ecco, io non so com'è meglio, com'è meglio spiegarmi, ma andiamo avanti, fammi vedere. Bilancia, va bene? Quindi, se tu stai aspettando una sentenza, una risposta, ma anche se non tu l'aspetti. Insomma, qui ti arriva un qualcosa in eredità, un beneficio di un qualche tipo, ok? Per esempio, se non si vuole parlare proprio di eredità, qui posso vedere la pensione. Qualcuno che va in pensione aspettava la risposta che ti doveva arrivare, se te la danno, se non te la danno, o un beneficio che ti ha richiesto, insomma, qui la devi tradurre te, ragazza, insomma, via. Qualcosa falla anche te, bilancia, vero? Ovviamente sto scherzando, comunque. Ok, la devi adattare alla tua situazione. Vediamo, bilancia. Vedi? Vedi? Allora, qui c'è, ti confermo quello che ti ho appena detto. Quindi c'è in arrivo questa, guarda, prima era uscito il re di spade, ora qui c'è la regina di spade. Quindi magari qui, semplicemente, come ti ho detto, o tu eri in lotta con qualcuno, uomo-donna, no? Magari semplicemente per il mantenimento della famiglia. Cioè, qui tu devi vedere un attimino, un attimino se, va bene? Qualcuno, magari tu potresti avere bilancia da come stanno parlando queste carte, come ti ho detto, una lotta, una guerra di un qualche tipo, per un diritto, come ti stavo dicendo, che si parli di un immobile, di un'eredità, di denaro, di un beneficio, di un qualcosa che deve venire a te. Perché si può parlare anche da quello che vedo della pensione, o magari della, come si chiama lì, quando tu finisci di lavorare. Perché qui c'è una fine, qui c'è una fine di mezzo, capito? Che non è il cambiamento bello di vita. Come sento parlare della morte! Cioè, capito? Per carità, poi ognuno, ecco, la morte è la morte. La morte, falcia via tutto, quello che c'era non c'è più. Quindi, e cambia, ovvio che cambia. Se uno muore non c'è più, cambia. Non c'è. Quindi, io ando e vedo la morte, però, per dire. Quindi, poi la balletta, ovviamente, nel contesto. Quindi, qui c'è un qualcosa che è finito, ok? Che è finito e che lascia il posto a quest'altra. Quindi, qui c'è proprio, lo fanno vedere, l'arrivo di questa comunicazione, ma comunicazione nel senso, un qualcosa che riguarda questo, questo beneficio. Ora, qui c'è un successo di un qualche tipo, capito? Un qualcosa, come ti ho detto, che viene a te, che ti viene riconosciuto. Vedi te, di cosa ti parlano? Vediamo anche gli oracoli, volume 1, una carta. Vediamo, dove ci mandano. Per la bilancia. Capito? Bilancia. Quindi, vedite di che cosa ti stanno parlando. Effettivamente c'è la tenerezza e l'avanzamento. Io ne volevo una. Comunque, c'è anche la tenerezza dietro, ok? E l'avanzamento. Avanzamento che mi richiama molto il carro. Anche lui mi parla di avanzamento, di una situazione che avanza, che progredisce, che va avanti, ok? Quindi, è proprio il gladiatore, no? Un qualcosa. Ecco, quindi la vittoria. Quindi, ecco, il beneficio e la prosperità. Quindi, un qualcosa di assolutamente favorevole per te, che è in arrivo. Quindi, un qualcosa che ti viene, che ti viene portato. Ma è un qualcosa, come ti ho detto, che include una fine, una fine di un qualcosa. Quindi, un qualcosa che finisce o che comunque è, o che comunque è finito, ok? Ecco perché ti ho parlato anche di eredità, di un qualcosa che... Un beneficio che ti arriva dopo la fine di un qualcosa. Vedi te, di cosa ti parlano. Cioè, l'eredità, la fine del lavoro, ti danno il TFR, la buona uscita, insomma, chiamala come ti pare. C'è la pensione. Insomma, vedi un pochino, vedi un pochino, sì. Comunque, qui c'è questo messaggio, questa comunicazione che deve arrivarti da un ente. Che sia un avuato, che sia un ufficio, che sia l'Inps, che sia quello che ti pare. Poi tu me lo farai sapere nei commenti. Va bene, bilancia. I tempi, come ti ho detto, non si sa. Non ho fatto domande, ho lasciato libero. Quindi, dipende da te, da quando vedrai questo video e dalla tua situazione, ovviamente, di partenza personale. Va bene? Noi ci si vede qui, eh, bilancia, ok? Al mio prossimo video. Ciao! Ciao!